Si è tenuta all'alba di oggi la tradizionale processione di San Ferdinando d'Aragona, patrono di Alvignano e Dragoni. Come di consueto, come si vede dalle immagini girate dal nostro Giuseppe Terminello, i fedeli dei due comuni si incontrano a metà strada il 27 giugno di ogni anno, da una parte proveniente dalla chiesa di San Sebastiano di Alvignano, con la statua e le reliquie del Santo, e dall'altra dalla chiesa dell'Annunziata di Dragoni, entrambe dirette presso la Basilica di San Ferdinando in Alvignano. E' qui che le due processioni si incontrano. Dopo la funzione, Dragoni ritorna con la sua statua nel piccolo comune e Alvignano lascia la sua nella Basilica di Gupulteria per poi riprenderla alla sera. Presenti il sindaco di Dragoni Antonella D'Aloia e il vice sindaco di Alvignano Santino Altieri, entrambi con la fascia tricolore.